le gabbie di partenza e si va partiti è in vantaggio Supertest davanti a Luna Park passaggio Dark Dream, Marshaid e Massar dopo 300 metri di corsa Supertest e Luna Park che conducono davanti a Dark Dream passaggio Marshaid e Massar all'inizio della curva passa Dark Dream davanti a Supertest al suo interno seguono Luna Park passaggio Marshaid e Massar poco prima dell'ingresso in drittura Supertest e Dark Dream conducono davanti a passaggio e Marshaid i cavalli entrano in dirittura con Supertest in leggero vantaggio lungo la corda davanti a Dark Dream e Marshaid a centro pista per linea interna e passaggio seguono Luna Park e Massar passa Marshaid davanti a passaggio Dark Dream Supertest Luna Park in vantaggio Marshaid attaccata all'esterno da passaggio passa passaggio davanti a Marshaid Supertest e Dark Dream in leggero vantaggio passaggio davanti a Marshaid e Supertest Un gran bel passaggio un gran bel passaggio Grazie a tutti. Grazie a tutti.